tipo glicemia, questa cosa è molto semplice se ti ricordi che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina, ho 21 anni e da più di 15 anni convivo con il diabete tipo 1. Allora, innanzitutto bisogna capire due cose, perché le glicemie vanno basse e perché è più pericoloso che le glicemie siano più basse che alte. Allora, partiamo dalla prima, perché le glicemie vanno basse? Le glicemie vanno basse perché la tua quantità di insulina è superiore a quello che è la quantità di zucchero che tu hai introtto in quello specifico momento. In questo caso parlo di carboidrati, perché parlo di carboidrati? Perché se hai visto i video riguardanti l'indice glicemico, la conta dei carboidrati, come non fare altro a rendare la diecimianotte che parlano, non dicono la stessa cosa, si integrano bene tra di loro. Ti ricordo che se vuoi lasciare un mi piace, un iscriviti per un malato cronico, va sempre bene. Tra l'altro c'è anche un altro video che è specifico sulle effetti di insulina e glucagone, come agiscono in persone sane, come agiscono i diabetici, in che modo intervengono per mantenere la glicemia, trovi tutto sul canale, ti lascio tutto qua in alto a destra. C'è da dire una cosa sulla conta dei carboidrati, se tu hai già visto il video sulla conta dei carboidrati che è sbagliata, io dico che non è che sia sbagliata, ma non è del tutto adatta alle situazioni diabetici, perché il diabetico non è che mangia esclusamente un piatto di carboidrati. Quindi dopo due ore la glicemia, visto che proteine e lipidi ci mettono molto più tempo ad essere degradate, dato che una volta sono stati degradati questi due componenti, fornisco energia più tardi, l'insulina non è più in circolo e quindi la glicemia si alza. Dato che la glicemia si alza, a questo punto noi dobbiamo intervenire con un'ulteriore quantità di insulina e per ristabilizzarla, ma se tu facessi più insulina sin dall'inizio, questo porterebbe comunque ad una glicemia momentaneamente bassa. Ora vorrei arrivare un attimo allo spiegare perché è un problema il fatto che la glicemia sia basso. Il fatto che la glicemia sia basso significa che il nostro corpo non ha energia e fin qui dici vabbè sto a letto e mi riposo. Il problema è che quello che c'è qua dentro ha costantemente bisogno di energia e ha un consumo di glucosa giornaliero, sia come il cuore, sia quando si riposa, sia quando si è in attività fisica e sia quando si è in attività mentale, visto che è il cervello e comunque tutto il sistema nervoso centrale a controllare ogni nostro movimento, meccanismo. Quindi se viene a mancare l'apporto energetico al cervello o l'encefalo, sarebbe più corretto dire, o comunque tutto quello che è il sistema nervoso, si può incappare in situazioni di quelle che sono problematiche a livello del sistema nervoso. Cioè possono essere problematiche riguardanti la trasmissione dell'impulso nervoso nel caso avvenga a livello del sistema nervoso periferico. Può essere che sia una problematica legata a una determinata area del cervello che non è stata errorata con sangue ricco di energia in modo appropriato. Esiste quindi una dieta per combattere le ipoglicemie? No, ok, non esiste una dieta che non ti fa andare la glicemia a barso, l'unica cosa è regolare in modo adeguato la quantità di insulina al tipo di cibo che stai mangiando, perché ogni tipo di cibo ha un diverso apporto energetico e uno diverso non è tanto l'apporto energetico in sé poi. È appunto la composizione di questo apporto energetico. Dato che i carboidrati e le proteine hanno più o meno la stessa quantità di chilo calorie per grammo, cioè 4 per i carboidrati e 3,75 per le proteine, questo significa che però le proteine ti danno energia molto dopo rispetto ai carboidrati. Il fatto che le danno dopo significa che se tu fai nel punto specifico per i carboidrati è glicemia attiva a basso. Quindi in realtà per impedire che la glicemia vada a basso le possibilità sono due in realtà. Conta i carboidrati e tiene molto monitorata la situazione per evitare che dopo si alzi, perché con dei carboidrati sei protetto per le prime due ore al livello di glicemia giusta, mentre per quanto riguarda la seconda strada che invece è quella che utilizzo io perché la maggior parte a volte non la faccia con i carboidrati perché non gli ho voglia e comunque ho le glicate che sono sempre uguali da 10 anni, quindi non cambia niente sia da prima che non la facevo sia dopo che non l'ho fatta, non cambia niente. Comunque semplicemente devi abituare a capire e col tempo si capisce quanta quantità di insulina è necessaria per un determinato tipo di pasto, per un determinato tipo di alimento e come è costruito questo pasto. In base a quello poi tu fai la quantità di insulina adeguata. Ricapitolando come conclusione finale, abbiamo capito perché è grave che ci siano delle ipoglicemie, il fatto che le ipoglicemie siano generalmente dovute al fatto che c'è troppa quantità di insulina rispetto alla quantità di zucchero che viene immessa e che viene bilanciata col tempo dato che hanno tempi di degradazione diverse le varie macromolecole. Inoltre il non mangiare porta comunque un aumento della glicemia dato che vengono immessi i chetoni e quindi che comunque contribuiscono ad alzare la glicemia e anche questi non fanno bene. Anche lo sport può abbassare la glicemia ma la può anche alzare, ho fatto dei video su questi ma facciamo a parte questo discorso, parliamo dei pasti normalmente. Quindi per quanto dicevo, generalmente è dovuto a una qualità eccessiva di insulina. Come la possiamo combattere con o il tempo, quindi a forza di impari a gestirla, oppure con una conta di carboidrati più efficace che tiene conto di queste cose, cioè nel fatto che le proteine e i grassi ci mettono più tempo ad arrivare, quindi sicuramente dopo due ore dovrai rimisorare la glicemia e rifare la puntura. Io spero di esserti stato d'aiuto, ti ricordo che puoi lasciare un mi piace, un commento qui risponderò di sicuro e iscriviti qua sotto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!